Tanta strada da fare sul fronte dello sfruttamento e del lavoro nero in agricoltura. E questa la fotografia che emerge dal quarto rapporto Agromafia-Caprolato elaborato dall'Istituto Placido Rizzotto e dalla FLAI CGL per quel che riguarda la Piana del Sele. Un territorio critico che pur non raggiungendo i livelli d'allarme registrati nell'area foggiana, nel periodo preso in esame dal rapporto non ha visto nessun intervento rilevante mirato a contrastare lo sfruttamento. A fare il punto della situazione Giovanna Basile, segretaria della FLAI CGL Salerno. La Piana del Sele è la più grossa provincia a livello nazionale dell'agricoltura, cioè un'agricoltura d'eccellenza. Siamo arrivati a fare anche, le aziende ovviamente, arrivati a fare anche la quarta gamma, quinta gamma, e esportano, esportano tanto soprattutto al nord d'Europa. Però purtroppo permangono ancora condizioni all'interno, anche se è un'agricoltura d'eccellenza, sotto salario e sfruttamento. Per quanto riguarda il caparolato, rispetto alle altre province e rispetto a tante situazioni che si sono sentite, non c'è da noi e delle loro etnie. Però non è cruente, non è che si fa pagare l'acqua o il panino, no. Anche perché i nostri immigrati che stanno nella Piana del Sele sono tutti istanziali. Ognuno di loro ha una casa, paga l'affitto, con un regolare contratto. Poi c'è un piccolo ghetto che sta nascendo, una specie di San Nicola a Varco, che è un po', la situazione è un po' più delicata. Ci sta qualche azienda che si sana, però il resto si permangono. La paga oscilla dalle 22-25, massimo 32. Questa è, quando poi la paga del contratto prevede oltre 50 euro. La situazione dopo l'approvazione della legge sul caporalato, qual è? Allora, la situazione dopo la legge sul caporalato, qua a Salerno, è partita una massiccia, diciamo, da parte dell'ispettorale del lavoro, nelle aziende, le visite ispettive. Ed è uscito fuori, ovviamente, quello che noi già sappiamo, lavoro nero, sotto salario e tutto il resto. Per far decollare la 199 abbiamo bisogno di decreti attuativi, perché non va soltanto guardata la forma repressiva. Va bene, va bene, l'ispettorato del lavoro faccia il controllo, però alla fine il lavoratore, per andare a lavorare a chi si rivolge, per andare a lavorare in azienda, chi lo porta, allora abbiamo bisogno di un collocamento pubblico, di un trasporto pubblico. Noi abbiamo chiesto all'ispettorato e all'IMS di attivare il tavolo della rete di lavoro agricolo di qualità, che non riusciamo, da quando è uscita la legge, sono due anni appunto a sederci per formare questo tavolo.